Ok, guarda, solo 30 secondi per la voce perché... No, ma non è che dopo un po' penso sia normale, mi si secca. Eh, infatti anzi oggi è meglio perché non c'è l'aria condizionata, mi sa, vero? Via. Ben tornati in studio, andiamo ora ad approfondire le notizie che riguardano la capitale. Ci spostiamo sull'inserto del Corriere della Sera che riguarda appunto Roma. Pensionata strangolata, una notizia di cronaca ed è giallo. Sotto Torchio l'inquilino moroso, un portafoglio aperto sul tavolo della cucina. Forse accanto c'era anche un contratto d'affitto. Un documento che potrebbe essere il movente dell'omicidio di Daniela Balilla. Pensionata di 66 anni, trovata morta ieri mattina nel suo appartamento in via delle Vigne 16, alla Magliana. La 60enne, vedova da qualche anno, è stata trovata con un asciugamano, annodato dietro la nuca e pigiato sul naso e bocca per non farla respirare o per nascondere i segni di strangolamento. Poi scoperti dal medico legale. Chi può averle fatto una cosa del genere? Si chiedevano ieri i vicini di casa. E poi un altro aggiornamento su un caso di cronaca. Le 100 coltellate di Prato e Fofo. L'omicidio Varani hanno inferto a Luca Varani più di 100 colpi, con due coltelli e un martello. Nessuno mortale causando al 23enne un'agonia che potrebbe essere durata fino a due ore. E poi Pincio, lo Scempio, i busti e le statue distrutti dai vandali. Danneggiati da anni, ma nessuno interviene. Nel giardino con le fontane senza acqua e le vasche piene di licheni, i viali del Pincio sono costellati da 228 busti, anneriti da patrioti, artisti, letterati e scienziati. L'orgoglio della storia d'Italia e di Roma ha nasi rotti e teste mozzate. Ma andando a vedere bene del busto di Giulio Cesare, è rimasta solo la scritta e quello di Ariosto ha un pericoloso ferro al posto della testa. Dante ha il profilo mozzato e Carlo Botta non esiste più. Antiche statue romane sono prive di teste, braccia e mani. Tra le statue intere prevalgono quelle sfregiate, mentre le panchine di marmo non hanno più le sedute e quelle di legno sono senza assi. E' lo Scempio del Pincio, il parco più frequentato da romani e turisti. E ancora i supplenti di sostegno rifiutano le cattedre. Il direttore dell'ufficio scolastico. I supplenti di sostegno ci sono, però, dice Gildo De Angelis, che vediamo qui nella foto. Direttore dell'ufficio scolastico del Lazio. Quando vengono chiamati, rifiutano il posto nella speranza di ottenere la cattedra in un'altra materia. E così succede che Chiara, bimba disabile di Quinta, debba frequentare solo due ore di scuola al giorno. E poi l'inchiesta, dogane, concorso truccato. Il membro della commissione d'esame aveva fornito in anticipo agli allievi del soccorso privato lo sfoglimento della prova scritta per provare ad essere assunti dall'Agenzia delle Dogane. I temi precompilati erano nascosti in una copia della gazzetta ufficiale, che era stata taroccata. E poi l'architetto Gasbari, il restauro, solo 2.000 euro l'una. E a centropagina la notizia dell'Olimpico. È stato travolto il Crotone, una notizia che riguarda il calcio. Totti pennella, Zeko realizza, Roma, tutto facile. Totti in campo dal primo minuto, inventa assist. Zeko finalmente si sblocca e realizza una doppietta. E le Sharaw e Salah chiudono il conto. Tutto facile per la Roma. Ieri sera l'Olimpico contro il Crotone, sconfitto per 4-0. Scesni ha parato anche un rigore. Scendiamo poi in taglio basso. Lo stadio Flaminio, addio al restyling. La rinuncia alle Olimpia degli impianti sportivi, che non verranno riqualificati. I 162 impianti da rifare. Le vele di Calatrava, incompiute a Tor Vergate. Il restyling dello stadio Flaminio. Il prolungamento della linea C della metro. Il raddoppio dell'aeroporto di Fiumicino. E la costruzione della tramvia della Musica. Il no di raggi spazza via candidatura olimpica di Roma e dossier. Di fatto azzerando il piano di restauro delle opere inserite per i giochi del 2024. Così il Flaminio resterà una ferita aperta. E ancora la centrale operativa della Polstrada si allaga appena comincia a piovere. A Fiano Romano, appena ristrutturata, l'hanno inaugurato il 29 luglio scorso. Negli uffici messi a disposizione dalla società autostrada Fiano Romano. Ma già con le piogge dei giorni scorsi, i locali del nuovo centro operativo della polizia stradale si sono allagati creando disagi al personale in servizio che ha dovuto mettere dei secchi sul pavimento per raccogliere l'acqua. La denuncia arriva dalla CONSAP, uno dei sindacati più rappresentativi della polizia che ha annunciato un sittine di protesta per il prossimo 4 ottobre. Proprio davanti al centro è stato aperto troppo in fretta e manca personale. Dopo questa notizia ci spostiamo sul web per leggere insieme ulteriori aggiornamenti. C'è un aggiornamento anche sulla vicenda della metro, il pestaggio in metro. C'è un altro indagato, un terzo picchiatore a piede libero iscritto sul registro degli indagati per tentato omicidio e dall'altro lato una mezza ammissione di colpe o un tentativo di difesa disperato. Eravamo fatti, avevamo assunto sostanze e quindi non ragionavamo. L'hanno dichiarato Antonio Senne che a Luigi Roccitello, 27 e 25 anni, di fronte al GIP Ezio Damizia in sede di interrogatorio di garanzia. E ancora un'altra notizia che riguarda Roma, chiusura per un'altra moschea. Ieri mattina la polizia di Roma Capitale è intervenuta nel quartiere Centocelle, municipio Sesto, per rapporre i sigili ad alcuni locali siti in via dei gladioli che venivano utilizzati senza alcuna autorizzazione come moschea per fedeli musulmani. Nel locale, esteso 280 metri quadrati, originariamente destinato ad uso deposito, erano stati effettuati lavori abusivi di ristrutturazione e tramezzatura senza permessi. Gli agenti, in forza al gruppo Casilino e codiuvati da polizie e carabiniere, hanno posto i sigilli a gran parte della superficie. Al momento dell'intervento erano presenti sul posto circa 70 fedeli. Durante le fasi iniziali dello sgombero ci sono stati alcuni momenti di tensione che si sono dissolti dopo che i funzionari hanno parlamentato con i responsabili religiosi e lo stesso imam, spiegando le ragioni dell'intervento. E ancora, tre supermercati rapinati in 15 giorni, a Roma arrestati due quarantenni, a Inviarelli il 20 agosto, via Massimilia il 1 settembre e via Pineta Sacchetti il 5 settembre. Sono queste le date e luoghi dove due malviventi a volto scoperto hanno rapinato tre diversi supermercati. Ad effettuare e portare a termine le indagini che hanno consentito di individuarli e sottoporli a fermo indiziato di delitto sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Monteverde. Partendo dalle immagini di videosorveglianza, gli investigatori hanno studiato il modus operandi dei rapinatori. In tutti e tre casi uno di loro indossava gli stessi abiti e pistola in pugno minacciava il dipendente di turno facendosi consegnare l'incasso. Ascoltando poi i cassieri dei tre esercizi commerciali vittime delle rapine è stato tracciato grazie alle descrizioni fornite un identikit dei due responsabili. L'uomo con la pistola aveva due vistosi tatuaggi, uno dei quali sul collo, raffigurante il Colosseo. Dettaglio poi verificatosi molto importante dalla visione di foto segnaletiche nella banca dati delle forze di polizia. I poliziotti hanno infatti individuato un pregiudicato con notevoli somiglianze somatico con uno dei due rapinatori tra cui proprio il tatuaggio del Colosseo sul collo. E ancora giallo a Roma, donna strangolata in casa con un asciugamano. Una donna di 66 anni è stata trovata morte in casa in via delle Vigne, in quartiere Magliana. La donna è stata trovata con un asciugamano stretto sul volto che copriva naso e bocca. A dare l'allarme la figlia è rientrata a casa che l'ha trovata riversa in terra. La vittima indossava una vestaglia sulla vicenda, indaga la polizia, sul post sugli agenti della squadra mobile del commissario San Paolo e si sospetta l'omicidio. Dopo questa notizia ci spostiamo sull'inserto che riguarda la capitale, l'inserto di Repubblica. E anche qui Blitz nella notte, raggi costretti al no ai giochi. Dopo le tensioni in aula sull'assessore Fantasma, un gruppo di grillini esasperati ha portato in comune la mozione finale anti-Olimpiadi, senza se e senza ma. Dietro al no alle Olimpiadi della sindaca c'è lo spettro di un nuovo mini-direttorio. C'è il deciso intervento di una scuola di parlamentari Movimento 5 Stelle allestita in fretta e furia per vagliare le reali intenzioni di Virginia Raggi, perché fino all'ultimo i vertici del Movimento hanno dubitato delle reali intenzioni della prima cittadina su Roma 2024. Potrebbe strappare, dire di sì, così martedì una delegazione di onorevoli grillini, capitanata da Simone Valente, ha messo a segno l'affondo decisivo. Tra le 17 e le 20, Palazzo Senatorio è stato preso d'assedio dal Plotone, arrivato da Montecitorio. Per tre ore il Campidogli è stato di fatto commissariato sul dossier giochi. Con la sindaca impegnata in aula, Giulio Cesare, a ricevere la delegazione, sono stati il vice sindaco Daniele Frongia, il capo della segreteria politica Salvatore Romeo e i consiglieri Calabrese e Guerrini nel faccia a faccia andato in scena prima dell'incontro con il Comitato Olimpico. Gli inviati del Movimento 5 Stelle hanno dettato ogni dettaglio all'exit strategi. E ancora il pranzo alibi della sindaca, l'oste non aveva alcuna fretta, il caso Malagò aspettava in Campidoglio. E ancora multa al ristorante, via le fioriere antidisabili, spopora il tavolino selvaggio. E ancora il racconto, se la scuola all'Esquilino diventa un villaggio globale. Scendiamo poi in taglio basso, rinasce Trinità dei Monti, dirige Pappano, l'evento dopo il restauro. E questa era l'ultima notizia per oggi, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo di essere stati con noi. Arrivederci. Grazie.